In collaborazione con E siamo insieme a Massimo Guerriere titolare di Q Consulenze Finanziarie. Guerrieri buongiorno, benvenuto a Reggio e a Paolo Giovanardi, ufficio studi di Q Consulenze Finanziarie. Allora partiamo come sempre nel nostro spazio che è intitolato i nostri soldi dall'attualità e soprattutto dalla situazione in Grecia perché abbiamo letto negli ultimi giorni che cosa sta accadendo in Grecia, le elezioni, la possibile uscita dall'euro, lo stato di bancarotta. Allora intanto proviamo a capire guerrieri che cosa effettivamente sta accadendo in Grecia, poi cercheremo di capire anche le ripercussioni che potremmo avere anche noi qui sui nostri territori, ma in Grecia, in sintesi, cosa è successo? Sì, diciamo che come avevamo detto anche nell'ultima puntata dell'anno scorso, è in atto una guerra sia valutaria che sul petrolio, sulle materie prime e questo ha ripercussioni un po' su tutto il mondo economico. Ultima appunto il discorso Grecia, il discorso Grecia non è un discorso nuovo, è già parecchi anni che ci trasciniamo il problema Grecia, non avendolo voluto risolvere all'insorgere, oggi, nonostante tutte le iniezioni di liquidità da parte del fondo monetario e della BCE, piuttosto che dei fondi salva stati, fondi a cui partecipano tutti i stati dell'Unione Europea, la Grecia è ancora a un debito pari al 175% del PIL e questo è un macigno. Perché è scoppiato il caso a inizio anno? È scoppiato il caso a inizio anno principalmente perché siamo alla vigilia delle elezioni greche, quindi il 25 gennaio ci saranno le elezioni greche e appunto a fronte di questa vigilia i sondaggi danno come vincitore, però in ogni caso prendere una buona fetta di voti, il partito di estrema sinistra, Sirizia. Questo partito vuole rimanere dentro all'euro però assolutamente chiede all'Europa di avere politiche meno pressanti da un punto di vista fiscale. Noi sappiamo che l'Europa a partire dalla Germania, la famosa Troica, cioè l'Unione Europea, Fondo Monetario, Internazionale e BCE, hanno imposto alla Grecia misure di ristrettezza, di austerity molto pesanti. Causa appunto la previsione che vinca questo partito appunto che vuole rimanere all'interno dell'Europa però chiede meno austerity, ha paventato da parte dell'Unione Europea, parliamo della Merkel, della Germania, l'uscita della Grecia da un punto di vista dall'Europa. Noi questa la vediamo un po' come anche in questo caso un'occasione che i mercati hanno preso per fare cassa. Quindi se lei si ricorda, noi abbiamo messo in guardia i nostri telespettatori a fine anno di controllare il proprio rischio perché ci aspettavamo e ci aspettiamo tuttora un 2015 con una volatilità assai più marcata rispetto all'anno scorso. Volatilità intendo appunto gli alti e bassi. Tenendo presente, e anche qui mettevamo in guardia nell'ultima puntata, tenendo ben presente che siamo all'interno di una guerra. parlavamo del calo che il petrolio ha avuto, tra l'altro c'è proprio un titolo del Sole 24 Ore, del giorno dell'Epifania. Quello che abbiamo visto prima. Quello che abbiamo visto prima proprio che demarca come negli ultimi sei mesi il petrolio è calato del 50%. E anche qui se mandiamo il grafico del petrolio, in modo che anche visivamente si vede come il crollo di questo asset. Quindi noi ci troviamo in questo momento da avere i mercati sui massimi. Per quanto concerne, e anche qui se mai vediamo il grafico dei mercati, i mercati azionari ai massimi, è una guerra sul petrolio, il mercato sui massimi, che ha avuto questo calo importante in quest'ultima settimana. Questo è il grafico dell'azionario italiano, quindi ha fatto un meno 6% in pochi giorni. e le incognite della ripresa economica, che sono a tutt'oggi molto importanti. Insomma il 2015 che si è aperto in un modo molto complicato, anche se si attende o si attendeva comunque alla fine dell'anno, vuol dire un'inversione un po', una ripresa, e invece poi abbiamo questi risultati. Tra l'altro prima leggevo che i mercati stanno provando a reagire, ad esempio nella giornata di oggi. Proviamo a parlare delle conseguenze che riguardano il nostro paese e anche i nostri investimenti. Quali potrebbero essere? Sì, allora, noi come dicevo prima, quindi guardiamo gli investimenti che abbiamo nei portafogli. Noi ci aspettiamo, come abbiamo detto appunto a fine anno, ma lo ribadiamo con vigore, un anno pieno di volatilità. Quindi questo sta a significare cosa? Che le incertezze che ci sono, e questo inizio l'anno con il botto, diciamo, ne sono un po' la prova, ma per noi è solo l'inizio. Certo. Quindi le cose che abbiamo detto ai nostri telespettatori a fine anno, le abbiamo dette e anche a tutt'ora le diciamo, perché vediamo sui rischi sul mercato più rischi che opportunità. Per quanto concerne l'Italia, Allora, andiamo per scontato che i mercati reagiscono male a il petrolio basso, la possibile uscita della Grecia dall'euro, piuttosto che a questo super dollaro, perché ai mercati piace la stabilità. Quindi se pensiamo che oggi abbiamo i mercati sia azionari che obbligazionari, ai massimi, ogni minima, diciamo, notizia non positiva comporta e comporterà delle prese di beneficio. Noi poi ci aspettiamo, cosa che se le cose non vanno come dovrebbero andare, adesso le andiamo a dire ai nostri telespettatori, ci possa anche essere un'inversione di tendenza, la famosa bolla speculativa. Perché abbiamo visto nel petrolio, quando inizia poi un trend in discesa, non sappiamo per quanto la speculazione lo possa portare. Per l'assurdo oggi, per l'Italia, in ogni caso i pesi dell'euro, del sud Europa, è una grossa opportunità. Ovvero, con il petrolio basso, noi abbiamo i costi dell'energia che si vanno a limare. Anche se, come lei faceva notare, si vanno a limare, in ogni caso, solo in piccola parte. Cioè il costo del carburante non è sceso in proporzione come è sceso il petrolio. Ma lì c'è anche un effetto di tassazione. Il discorso dell'euro debole, che si è indebolito in questi ultimi mesi, nei confronti del dollaro, dà sicuramente maggior competitività alle nostre aziende all'estero. Il 22 gennaio si riunisce la BCE per decidere se fare un quantitative easing. In due parole, noi l'abbiamo già spiegato su dare e avere. Quantity easing è una mossa atta a fornire liquidità al sistema tramite l'acquisto di obbligazioni e o titoli di Stato. Quindi la BCE, la Banca Centrale Europea, immette nuovo denaro nell'economia per creare inflazione e per far ripartire i consumi. Quindi abbiamo tre cose che dovrebbero avvantaggiare i paesi dell'area euro, perché tutti hanno un calo del PIL, ma in particolar modo i paesi del sud Europa. Il grosso rischio è, ma anche qui solo le 24 ore di ieri, il grosso rischio è che se noi perdiamo questa occasione e sembra che non sia sufficiente perché se non abbinata a altri due fattori, uno l'allentamento fiscale e la ripresa degli investimenti, cosa che oggi manca in tutti i paesi dell'euro, Germania compresa. Ovvero un allentamento della pressione fiscale per permettere di avere più denari in tasca e una ripresa degli investimenti, quindi anche un maggiore accesso al credito piuttosto che una maggior fiducia. E di conseguenza noi stiamo rischiando grosso. Cioè se non prendiamo al balzo questi primi mesi, questi primi tre, sei mesi dell'anno, rischiamo veramente poi di non, al di là delle misure che verranno prese, ma ormai molte sono già state prese in questi ormai sette anni di crisi, di non essere più in grado di uscire né dalla deflazione né tanto meno dalla ripresa, che è un po' diciamo, gli avvertimenti che abbiamo messo in guardia anche nell'ultima parte dell'anno. Certo, allora Giovannardi, parlavamo prima di investimenti, titoli di Stato e azioni, chi è in possesso di questi investimenti, brevemente qualche consiglio? Sì, parliamo un po' delle cose di casa nostra, le azioni, principalmente le azioni italiane e i titoli di Stato italiani, quindi sono tra gli investimenti principali nei portafogli dei nostri concittadini, dei nostri risparmiatori. Allora, prima cosa, sulle azioni diamo qualche regola generica che non è ovviamente un consiglio sui singoli titoli, però qualche regola da tenere ben presente quando si vogliono fare questi investimenti o quando li si hanno già. La prima cosa è certamente quella di partire da non una scelta emotiva, come è un po' l'errore che si può fare abbastanza spesso, ma avere presente un po' il quadro nel quale ci stiamo muovendo. Quindi do qualche informazione in più per riuscire a permettere ai nostri concittadini di fare delle scelte fatte in modo corretto. La prima cosa è tenere presente un po' il quadro che abbiamo fatto. Prima abbiamo parlato dell'Europa e anche un po' a livello mondiale, il discorso del petrolio, eccetera, guardiamo quello che sta succedendo qua in Italia e dove, come si diceva adesso, i prossimi mesi saranno sicuramente importanti. Ad oggi siamo in una fase che riteniamo abbastanza epocale, nel senso che ieri sono usciti i dati sulla disoccupazione, quindi anche oggi ci saranno sui giornali, che parlano della situazione che da quando esistono le statistiche, quindi parliamo di oltre 40 anni, sono i dati più alti in assoluto, sia della disoccupazione che di quella giovanile, che forse è il dato più preoccupante. Sappiamo che il debito pubblico è ai massimi di sempre e che i consumi sono ritornati ai livelli del dopoguerra. Quindi siamo sicuramente in una fase non momentanea, ma è una crisi che dura già da tempo e dove i segnali di ripresa a oggi non ci sono. In questa situazione cosa sta succedendo? Quindi parliamo delle azioni. Sta succedendo, noi lo vediamo anche qua nel Reggiano, nelle nostre aziende di casa, c'è una fortissima selezione. Ci sono tante aziende che o hanno già lasciato il mercato o sono in difficoltà e di conseguenza più tarda avvenire questa ripresa più faranno fatica e ce ne sono poche che sono invece dotate di buona liquidità, hanno buoni dati e probabilmente usciranno avvantaggiate da questa situazione di crisi. Quindi la prima cosa che i risparmiatori devono fare è quella primo di capire di non basarsi sulle emozioni o sul sentito dire o sui consigli un po' da bar diciamo. Secondo, cercare di capire in quale insieme che ho appena fatto rientrano le aziende che hanno loro sotto forma di azioni. Quindi sono aziende sane e in forte espansione oppure sono in difficoltà. La terza cosa è cercare di capire anche come comportarsi a fronte eventualmente di segni meno, di perdite. facciamo spesso fatica a portare a casa una perdita quindi a vendere i titoli che sono in calo ma dobbiamo invece anche capire che non è detto che se un titolo è in calo abbia più probabilità di ripresa, anzi di solito è esattamente il contrario. Quindi a volte può essere opportuno risparmiare, sacrificare la mano per risparmiare il braccio in un certo senso quindi anche fare un po' un cambio radicale. Ultima cosa sui titoli di Stato e lo abbiamo già detto diverse volte anche nelle puntate precedenti non vediamo rischi di fallimento dell'Italia nel breve. Il problema è che la maggior parte dei risparmiatori i titoli di Stato non ce li ha brevi ma ce li ha medi lunghi quindi 2, 3, 5 anni in su proprio perché i titoli corti non danno oggi rendimento. Secondo noi la politica è proprio da fare proprio il contrario cioè cercare di vedere se può valere la pena accorciare le scadenze e anche parecchio proprio per avere più tranquillità in fasi importanti come quella attuale. Allora noi con Q Consurenze Finanzare ci vediamo tra due settimane dopo la famosa riunione di cui si parlava prima della BCE corretto poi ci saranno le elezioni in Grecia e quindi potremmo nuovamente analizzare un po' gli scenari così no Guerriere? Sì in modo da tenere i cittadini informati via via nel frattempo io volevo dare un compito a casa quindi lasciando sempre aperta l'opportunità del check up gratuito quindi chi vuole fare un controllo del rischio può telefonarci contattare noi gratuitamente controlliamo il rischio che stanno correndo i nostri concittadini sui propri portafogli o titoli ma do un compito ovvero come fai da te che può essere molto utile in questa fase proprio per rendersi conto la volatilità che il rischio che ognuno sta correndo sui propri risparmi Qual è questo compito? andare in banca e farsi dare una situazione aggiornata che poi andrà confrontata con la situazione del 31-12 che dovrebbe arrivare a casa appunto verso il 15-20 gennaio in modo che la situazione del 31-12 che la banca è tenuta a spedire a casa confrontata con la situazione di questi giorni quindi con 3-4 giorni lavorativi e vedere quanto è variato il proprio portafoglio a di là che si abbiano azioni obbligazioni fondi ma vedere in pochi giorni di volatilità come è inciso sul proprio portafoglio quindi il consiglio è o ci chiamate o in ogni caso andate in banca vi fate fare una situazione la tenete lì e la confrontate con l'estratto che vi arriverà verso il 15-20 gennaio grazie grazie per essere suoni insieme a noi buona giornata e buona giornata